Allora, restiamo qua a Capodanno. Sì, ma solo se cucino io. Ok, allora usciamo. Ma no, guarda, guarda. No, ma io non mi fido, lo sai? Non ti fidi mai, ma scusa, io faccio una pasta. Ma che gruppo è Animali da Cortile? No, niente, è un gruppo di amici, sai... Calcio, videogiochi, birre artigianali... Intanto nella chat Animali da Cortile... La pecora! Codice B82! Abbracciate tutte le foto dalle tette! Ehm, golf... Dentro le chat di gruppo. Intanto nella chat Ufficio. Oh, birra dopo il lavoro? No, no, no... Guarda, domani mattina... Sono rotto da fare. Intanto nella chat Ufficio senza Ciro. Ragazzi, birra dopo lavoro? Sì! Intanto nella chat Famiglia Estesa. Buongiorno! Alla via Costanza! Cominciamo con gli auguri del giorno. Buon compleanno a Ludovica! Buongiornissimo! Caffè? Sì! Caffè! 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 Intanto nella chat Capodanno 2020... C'è qualcuno che vuole fare la fine dell'anno scorso sul divano e con il countdown in televisione? No! Ci sono proposte? Capodanno a Parigi con Volo Last Minute! No! Serata in discoteca, ingresso più brindisi, 140 euro! No! Un certone trash in piazza! No! Sì! Piu! Can... Piu! 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 la migliore amica Lucrezia ha vinto un viaggio a Dubai e il fidanzato un televisore da 65 pollici per la casa nuova che cosa ci resta? ok per me! intanto nella chat mamme dell'asino niente colpi sotto la cintura niente vocali sopra i due minuti e se i vostri figli stanno male non mandateli a scuola 3,2,1 sarò mio figlio a fare Gesù Bambino nella recita di Natale ma il mio è più carino! intanto nella chat Mykonos 2011 amici per sempre intanto nella chat Ufficio oh e allora facciamo domani magari eh? guarda no perché guarda proprio domani è peggio Dio intanto nella chat Ufficio senza Ciro che palle ma fatti una vita chat Ufficio però domenica bullying oddio ma fatti una vita e il mio messaggio scusate ho sbagliato chat intanto nella chat Capodanno 2020 signore mancano cinque ore alla mezzanotte nooo no no veramente mancano cinque ore ci dobbiamo muovere perché sennò non troviamo niente cioè non dico di fare chissà che cosa però credo una bottiglietta di spumante un panetto qualche goteghino ma almeno per augurio può far brica propongo cena a casa mia e il countdown davanti al televisore rompete le righe eeeh cosa significa far parte di un gruppo sarà un onore andare a dormire a mezzanotte e un quarto anche quest'anno signore l'onore è mio soldato realizzare un progetto allora tritacarne ok per me ok va bene per me mettere da parte tutte le incomprensioni sentirsi parte di qualcosa di speciale eeeh donna ha lasciato me eeeh sono voi eeeh chi ci regala emozioni ogni giorno soprattutto a natale grazie per la compagnia che ci facciamo ogni giorno ascolta a volte ci diamo per scontati ma io voglio dirvi che sono felice di avervi nella mia vita e che vi voglio bene buon natale eeeh eeeh ma che gruppo è aerobic apocalypse? certo distruggete le foto dell'istruttore senza maglietto! eeeh